Ciao ragazzi, oggi si fa l'allenamento, lavoreremo sulle schivate e sulle parate con i bloc di calcio, ok? Allora, tanto le schivate, si lavora col tronco, ok? Si fa questo, passo indietro con la gamba destra, butto leggermente indietro le spalle, destra, fermo, colmento basso, ok? Buon, butto giù, braccio sinistro, uno, e da qui, reattivo, rispondo, torno subito sul col sinistro e rispondo col destro, ok? E poi sinistro, oppure, indietro, da qui, butto subito in avanti il sinistro e rispondo col destro, ok? Quindi è uno, uno, due, uno, uno, due, uno, uno, due, uno, uno, due, ok? Poi, facciamo questo, si blocca, dal blocco devo ripartire con la combinazione di braccia, una basilare anche, paro, uno, due, gancio, ok? Paro, uno, due, gancio, oppure paro, ginocchio, paro, attorno avanti, ginocchio, retorno indietro, paro, uno, due, gancio, paro, attorno avanti, ginocchio, retorno indietro, paro, ginocchio, paro, uno, due, gancio, ok? Allora, lavoreremo, dodici round, dieci secondi di lavoro e dieci di recupero. I primi dodici round faremo solo, schivata e rispondo col uno, due. Per chi è più allenato può usare anche i pessini alle mani, ok? Se avete le capigliere, anche le capigliere per quando andremo a fare le gambe, il round dopo. Allora, quindi faremo dieci secondi, solamente schivo, uno, uno, due, schivo, uno, due, schivo, uno, due, passate dieci secondi, sono al timer, sciolgo e poi si riparte. Schivo, uno, due, 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 ok? Questo per dodici round. Finiti i dodici round faremo un minuto e mezzo di riposo, per chi è più allenato anche un minuto. e poi proviamo a fare il lavoro con le gambe. Quindi gli altri dodici round li andremo a fare con blocco, ginocchio, blocco, uno, due, gancio, blocco, ginocchio, torno indietro, blocco, ginocchio, blocco, uno, due, gancio, blocco, ginocchio, blocco, uno, due, gancio, blocco, uno, due, gancio, blocco, uno, due, gancio. e poi si riparte blocco ginocchio blocco ginocchio blocco 1 2 cancio blocco ginocchio blocco ginocchio blocco 1 2 cancio ok finiti i 12 round ci riposiamo sempre un minuto un minuto e mezzo e andiamo a fare il terzo round e qui si inizia a lavorare misto e 10 secondi schivo 1 2 schivo 1 2 schivo 1 2 finiti 10 secondi parte del round dopo facciamo quello con blocchi mi metto lì blocco ginocchio blocco ginocchio blocco 1 2 cancio blocco 1 2 cancio blocco ginocchio finisce e si va a lavorare un'altra volta con la schivata schivo 1 2 schivo 1 2 schivo 1 2 e poi un'altra volta blocco ginocchio così una volta schivata di tronco una volta blocchi di gambe per tutto il terzo round un minuto o un minuto e mezzo di recupero guckettino e andremo a fare il quarto round libero lavoro di combinazioni complete bum 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 pum 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 ok così a finire tutti a 12 round questo è il lavoro cardio che aiuta molto con gli automatismi quindi a lavorare sulle schivate e l'attività dei colpi schivo e rientro subito blocco e rimetto subito i colpi molto buono mi raccomando prima di fare questo lavorate sulla tecnica quindi fate 3 round di vuoto da 3 minuti con recupero di un minuto a provare a fare queste cose ok schivo per benino 1, 2 ok giriamo bene le spalle ok blocco e ginocchio ok atterro questo cerchiamo di farlo per benino quando abbiamo fatto 3 round e vediamo che si sta facendo il lavoro per bene andremo a fare queste ripetute per 4 round ok grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti